Euristica affettiva, sai che cos'è? Mai sentito parlarne? La vediamo dopo la sigla Euristica affettiva, diciamo che è abbastanza facile capire che cosa si intende con euristica affettiva Però noi come al solito andiamo a vedere con la definizione di Wikipedia che cosa ci dice Che cos'è? È un comportamento economico deviante rispetto alla teoria normativa dell'utilità Per la quale le persone attribuiscono un maggior valore e beni in loro possesso rispetto ai medesimi disponibili sul mercato Ora si dovrebbe fare una brevissima parentesi sulla teoria dell'utilità In brevissimo, ma veramente in brevissimo, la teoria dell'utilità ci dice che Le persone danno un valore alle cose, un valore economico in base all'utilità che ne hanno In base anche alla scarsezza e quindi così via Ad esempio l'utilità del petrolio è molto alta ma di per sé il petrolio non vale nulla È un liquido nero, però la sua utilità che ci permette di muoverci attraverso i mezzi di trasporto Ci permette di dargli un valore Questa è la teoria dell'utilità Secondo l'euristica affettiva noi andiamo contro questa teoria dell'utilità E se noi possediamo un determinato bene Vi diamo un valore maggiore rispetto a quello che effettivamente ha Per il solo fatto di esserne affezionati appunto, come dice il termine stesso Perciò andiamo a vedere un grafico, un esempio su un grafico Siamo su Ailon, siamo naturalmente tornati indietro nel tempo E perché ho preso proprio Ailon? Perché c'era un ragazzo che ogni tanto ancora sento A cui stavo insegnando un po' di trading Che mi diceva che era in difficoltà con questa operazione Perché? Perché in questa zona aveva già comprato da circa una settimana Verso i massimi E appunto era in leggera difficoltà E voleva aumentare le sue posizioni Io l'ho detto che comunque è un'azienda Che ha avuto uno scoppio impressionante E gli ho consigliato anche se il grafico Era a suo favore di non acquistare altre azioni Lui comunque ha voluto giustamente fare di testa sua Anche perché io non sono un consulente finanziario Gli stavo soltanto dando un semplice consiglio Vediamo effettivamente poi che cosa è successo Il prezzo è iniziato a scendere È iniziato a scendere ancora E qui lui ha comprato ancora altre azioni Dopo averle comprate all'incirca in questa zona Quando comunque mi chiese il consiglio Ha comprato altre azioni Al fine di andare a mediare il prezzo Il prezzo si può anche mediare in certe circostanze Ma se il grafico appunto ci dice un qualcosa E lui ha continuato a farlo Altre ancora, altre ancora Ora si ritrova con un conto In cui il 30% del suo conto Ora non parliamo di cifre per una questione di privacy È occupata solo da quest'azione Solo da Ailon E quindi io mi sono chiesto Perché è accaduto questo? E infatti quando lui mediava il prezzo Si richiedevo ma perché medi il prezzo? Lui non aveva paura di perdere i soldi Lui era convinto che Ailon sarebbe scoppiato Da un giorno all'altro Perché? Perché comunque se ne informato Ormai si era affizionato a questa azienda Era sicuro dell'andamento di questa azienda Era veramente certo Altrimenti non lo vai a mettere Un 30% del tuo capitale Su una sola azione Ed era un conto ben capitalizzato Quindi puoi capire quanti soldi Siano stati investiti qua Ora le ho anche dato qualche consiglio Per evitare di Almeno per cercare di recuperare in parte questa quota Con l'utilizzo di opzioni Però appunto è da vedere Se si riesce a recuperare questo investimento Se lasciamo scorrere un pochettino il grafico Notiamo che il prezzo non ha fatto altro Che continuare a scendere Perciò Seppur Ailon sia di per sé Un'azienda interessante Perché comunque produce camion elettrici Quindi potrebbe avere Un ottimo futuro Per così dire Nel mercato azionario Ma anche nel mercato reale Purtroppo Non vienono dei segnali Questo era Quello che riguarda appunto Il bias Meglio dire L'euristica Dell'affettività Perciò andiamo a vedere Delle strategie pratiche Che ci possano effettivamente Aiutare Ad evitare Tutto questo Accetta Di poter Sbagliare È meglio guadagnare O avere ragione Questo è il dilemma Che pongo molto spesso A chi impara un qualcosa con me Sia in coaching Ma sia anche nel trading Perché? Perché tante volte L'idea di voler avere ragione È troppo forte Infatti Ritornando un attimo Al grafico di Ailon Un qualcosa di importante Dopo le elezioni di Biden Siamo più o meno In questa zona Sì più o meno a novembre Era il 9 novembre Non mi ricordo Questa zona qui Che è stato eletto Biden E io chiamai il mio cliente E dissi che effettivamente Stava diventando interessante Ailon Che comunque era a prezzi di sconto Rispetto alla grande rialza Che aveva avuto Anzi mettiamoci così Per non farci confondere E comunque risultava interessante Perché Biden è molto Per l'ambiente Quindi molto per i piccoli elettrici E loro producono Cambio elettrici Quindi proprio a pennello L'unica cosa appunto Che ha avuto questo strappo rialzista E poi il prezzo è sceso È da qui che ho capito Che era in atto L'euristica dell'affettività Perché? Perché io appena gli ho detto Che l'azienda era interessante Dopo aver detto per molto tempo Che era meglio Era meglio liberarsi Delle azioni che aveva Lui mi ha detto Eh io te l'avevo detto Che sarebbe salita Io te l'avevo detto Che era molto interessante È sempre stata molto interessante E gli ho capito Quanto era affezionato A questa azione Detto questo Il video finisce qui Metti mi piace E iscriviti al canale Se ancora non l'hai fatto E commenta Se hai qualcosa da chiedere Inoltre ti ricordi Il canale Telegram Dove puoi trovare Tutte le migliori strategie pratiche Che spiegano i video In semplici e comodi PDF In modo da poterli utilizzare Quando preferisci Ti ricordi inoltre Se vuoi prenotare Una coaching con me Compilla il phone qui in basso Inserendo nome Cognome E-mail Numero di telefono E una breve descrizione Del motivo Per cui mi stai contattando In modo da capire Se posso esserti utile O meno La chiamata è gratuita E serve solo a capire Se effettivamente Possiamo fare Un lavoro di crescita insieme La prossima volta Vediamo Il bias Della scelta E' La prossima volta Vediamo E' La prossima volta